Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Ant Farm Survival, episodio numero 23 23? Sì, 23. Per chi ha visto il film 23, beh, avete visto il film, bravi Ecco, ho sbagliato a fare il coso qua. Ho rifatto un po' la farm e tutto Ehi ragazzi e ragazze, signore e signori, notizioni, ho trovato la fortezza Ho fatto un piccolo sistema di tunnel che poi vi mostrerò nella parte anteriore, quella vicina al portale Non ho trovato niente, quindi mi sono spinto più avanti, ho detto vabbò, io vado avanti perché non trovo la bedrock e amen E ho trovato la fortezza, in realtà non l'ho esplorata per niente, ho solo tipo visto un nether brick in lontanazza Ho detto, perfetto, l'ho trovata, basta, io smetto qua. Questo è stato il pensiero Ora, però, ho anche visto, sai com'è, un ghast e allora io mica scemo Cioè, quando voglio io mica scemo perché altrimenti è scemissimo Voglio formare un po' di, ehm, di skeleton per farmi una buona base di frecce Perché senza frecce non riesco a combattere i ghast e se non riesco a combattere i ghast Poi, diciamo che son kaiser un po' per tutti Sì, diciamo che son kaiser un po' per tutti, quindi vai a dormire velocemente Che siamo a posti Ah, ho una brutta notizia Vedete che non ho più roba di ferro? Nemmeno l'armatura? È perché, mentre cercavo Anzi, vi faccio vedere Vi faccio vedere e poi torno a farmare scheletri E dopo andiamo nella Nella fortezza Però vi faccio vedere un po' il fail che ho fatto Perché anche off camera faccio fail, no? Giusto per far vedere che Cioè, non lo faccio apposta Ora vi mostro, ora vi mostro Allora, per vedere un po' se era in questa zona, no? Perché c'è tutto un blocco qua sopra Lì sopra il portale E questa è la zona Ho detto, boh, schiava in mezzo Vediamo se è in mezzo al muro Cosa ho fatto? Ho creato What the fuck? What the fuck? Sì, va bene Praticamente ho scavato No, non era qua Era tipo più in qua Io scavando Giustamente stavo dando un live stream su YouTube E insomma, a poche parole Ho camminato e sono caduto nella lava Ecco, ora è uno di questi Ah no, mi sa che era proprio sto blocco Sono caduto nella lava Ma cosa sto ghast? Si droga Non ho manco l'alcoletto C'è solo la freccia Poi da dove arriva? Drugato Si vede neanche da qua Oh, vabbò Fatto stack Ora andrò a farmare I pezzi Murder Skeletor Uno, uno, uno Desclamativo Mi faccio almeno Mezzo stack di frecce E poi Solo poi Andremo ad esplorare La fortezza Non ho fatto manco vedere dov'è Però più o meno L'avete capito Piccolo update A parte il fatto che sembra un capo indiano Su boia vacca Le peggio cose Ho quasi mezzo stack di frecce E niente Sto farmando qua altro grano Così mi faccio i panini Tutte le cose Mano mano che prendo le ossa Sono in buon miglia Mi faccio le varie robette Poi ho bloccato qui Questa salita Perché continua ad arrivare su gente Oh, è impossibile Non ce la faccio Troppa gente E poi mi rompono le cose È un casino L'altro cagno che mi rompeva le cose È il pigman In realtà c'erano tre di pigman Due li ho rispediti dietro nel portale Ma è stato spingerli dentro Si teletrasportano automaticamente No? Perché tutte le entità Che non sono giocatori Quando tu li spingi dentro un portale Pum Vanno direttamente nel nether Cosa fighissima Utilissima da questo punto di vista E invece quest'altro L'ho intrappolato qua Così è il mio Amicchetto personalizzato Proprio Ciao Ciao Ah, a proposito Nello scorso episodio Alcuni commenti dicevano Surreal, Surreal Guarda che c'è un pigman Che ha preso la tua spada di diamante Ehm No, in realtà Era una spada d'oro Incantata Probabilmente nel video Si vedeva male Ma sono abbastanza sicuro Di aver perso tutto Nella Nella lava Mi dispiace E' così Lo so Fa male anche a me Fa male I dirt I dirt 32 Mezzo stack Ragazzi Siamo pronti Direi che possiamo andare A vedere Questa Dannatissima fortezza Vediamo Quanto riusciamo ad esplorarne Spero tutto Senza morire Ah, aspetta Aspetta Troppo cibo Com'è Troppo cibo I meloni Li lascio qua Perché Sai com'è Dato che Ormai sono abituato A essere realista Probabilmente morirò Come un cane bastardo Eh Poi porto anche Della cobblestone dietro Quanta ne ho Ne ho pochina Porto anche della terra Allora Perché Ho dato che c'è un lago Di lava Quindi voglio essere sicuro Anche di poter arrivare Dove devo andare Se me li lascio qua Perfetto Ah, questo zucchero è da una witch Che ho ucciso prima Ho una spada in più Ma si me la porto Ah, l'arco Giustamente Non questo arco Coglioncello Mettiamoci questo arco Che è un po' migliore Lo uniamo Eccolo qua Lo mettevo qua No Lo metto Eh, si Le torce anche le poso Che non si sa mai Poi mi servono E non ce le ho Perfetto Signore e signori Andiamo alla fortezza Non so quanto grande sia Perché davvero Ho visto solo un blocco Di nether brick E ho detto Boh, a posto Andiamo qua Spero che sia abbastanza grande Che sia abbastanza intrattenente Tra l'altro Tutte queste robette qua Eh, aspetta Sarà sbagliata Eh, devo andare da giù Perché vado da su Sono un coglione Sono un coglione Peggio cosa Non t'ho fatto niente Non ti lamentare sempre Caffone Ok Ho creato qui Una piccola scaletta Piacere Piacere Su di la power Su di la power Coming through Ahah Bellissimo Perfetto Buongiorno signore Come la va Ciao Ciao Si può levare per favore O la devo buttare giù La devo buttare giù Oh merda Oh merda Iniziamo male Iniziamo male Ok Il fatto che mi stia sparando Un ghast È una cosa Posi Cavacca C'è uno spawner E va che roba Spero se no Di non attaccare Nessun ghast Cioè nessun pigman Non è che ti fai di urletta Così Coglione Ok Cerchiamo di arrivare lì Più velocemente possibile E di andare direttamente Allo spawner Di ghast Non vedo spawner Di blaze Il che mi Mi piace come cosa Spero solo che non Spawni E la madana Veloce Veloce Ho paura Non lo vedo Sto spaccando Fuck yeah Bitches Fuck yeah Fuck yeah Madonna Pro player Il pro player E quella La minaccia Maggiore Eliminata Oh fuck yeah I spawner di pigman Mi sa che posso eliminarli Non c'è nessun achievement A riguardo Anzi Mi sa che proprio Un achievement È distruggerli Sono abbastanza sicuro C'è una scaletta Di qua sotto Qua c'è la lava Non mi piace come cosa Perfetto Sento Dei blaze Mi piace come cosa Non lo so Però li vedo Eccolo là Allora prima Eliminiamo anche Quest'altro spawner Buongiorno Piacere Ora qual è la Pericolosità Non so parlare La pericolosità Di questa roba È che se Attacca Me È che se si mette In mezzo Un cane bastare La madana Buongiorno Come la va Spera Spera solo Che non attacco Un pigman Che madana Mi Disinstallo Minecraft Ma porca Di quella cagna Porca Di quella cagna Mi picchio tutti Io qua Devo recuperare Le vita Però Perfetto Che c'è Questo muro Che tra l'altro Io voglio fare Una piccola roba Così Per evitare Che nel caso Io attacchi Qualche zombie Nel caso Evito Che mi attaccano Da dietro Perché è molto possibile Con Usando l'arco Dalla distanza Che la cagna Di tu ma Cioè Devo recuperare Vita Devo recuperare Vita Assolutamente Mamma mia Che peggio cose Cosa Sì Sta roba Pericolo Pericolo Se scavo qui C'è il buco sotto Cazzo Sì Che c'è il buco sotto Eh Quasi Quasi No No Male Brutta idea Sti rumori Da dietro Ecco Che non lo sapevo Che non lo sapevo Chiudi qua Chiudi qua Non voglio nessun pigman Oh la madonna Guardali 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 Ragazzi 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 La situazione è questa Sono bloccato in mezzo a Un sandwich Io sono Il ripieno E A un lato C'ho una bellissima fritta di pane Di blaze E dall'altra C'ho una bellissima fritta di pane Di pigman Cosa faccio? Sto fk Finchè i pigman Non mi vogliono più male Guardali qua Se potessero Madonna Potessero mi tutti E quindi Per questo episodio È tutto Mi raccomando Lascia mi piace Perché in questo episodio Non c'è stato manco un fail Cioè Ci sono stati Ma non li ho registrati Quindi Fuck yeah Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Ricordatevi Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E ciao Te lo dico a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti